no aspetta che adesso mi scorto no no scortami no perchè già c'è qualcuno che mi che tende a ammazzarmi cazzo ti dammi putta giù eh meno quali fermi ormai rischio di più a fare i video cazzo che non andai in moto ciao anche qua non sono in una buona posizione sembra che gli manda qualcosa quando gli dai qua sembra che quando sei qua gli dai ma non va no non ero convinto qua non sei convinto e sei troppi in avanti ma sai perchè non ero convinto qua perchè sono rimasto scioccato dalla furba lì mi avete concentrato qua ormai avevo visto buttato no io ho pensato noi facevamo appartiatissimo ah io fa il salto hai capito? mi sono passato lì l'hai caricata ma l'hai caricata già contro come fa lui quando passato sono arrivato qua senza testa ora rifai questo pezzo stai da qua entri prendono 100 mila euro di moto prendono 100 mila euro di moto prendono 100 mila euro di moto per non fare neanche usare quello che ha sentito si piglia il telaio quello di turbico e anche la targa guarda il pavie è Carlo io mi telefono uno io ho già i cazzini ai croti ho capito che succede ma che cazzo vuoi? dove sei? sono al mare e che cazzo mi chiami a fare? io ho già andato in settimana con lui no perché mi spieghi una roba non ce l'ho qui ce l'ho conci fuori eh ascolta questo ti spieghi una roba allora devo spegnere ascolta o lascio acceso?